Essere o non essere, questo è un problema, di ciò che deve essere, oppure che non deve essere, una domanda molto ignota diciamo, una domanda molto molto significativa, che ovviamente bisogna capire da dove si svolge tutto, 628 iscritti, mi raccomando. Eccoci qua, ritornati dopo un po' di esaurimento nervoso, abbiamo completato le missioni di Mario, adesso tocca a un altro personaggio, finalmente possiamo cambiare, non sarà più il solito Mario. Come sempre sono 4 le missioni, però c'è una mozione finale, Amy, Sonic, arriverà il momento di lui, 100 metri, realizzo uno scatto alla parte, questo ci dovessi riuscire con Sonic, dai, salto triplo. Nooo, veramente fai? Mario, no, raga, salto triplo, Mario. L'incubo si sta per realizzare. Eh, Mario, non lo sopporto quello. No, quello è difficile, quello è quello di cui si fa. Allora, dobbiamo arrivare prima? Chi hai visto? Ma mi fa, ma vi è ancora su scemo, po'? Eh, sì. Tu, da sto, obbuna, pure bruise. Guarda, è brutto. Via, ma è brutto proprio. Pure bruise. È bello, d'inno. Allora, ma chi fa il che? No, sono. C'è, va, vai, fritta. Si, lo fa un giro. Parte. Vai, 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 vabbè, Sonic, qua, 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 vabbè, 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 vabbè. Perfetto, perfetto. È velocissimo, mamma, vabbè. Secondo te, secondo te, perché più non mi sono applicato con Mario? Cioè, che sì, Mario è completo, però alla fine Sonic è più veloce. Eh, Sonic che tiene tutta la velocità. Salta almeno 15 metri con un angolo di salto di 50, ma, mamma. Qua, con Sonic non c'è bisogno del minimo sforzo, quando... Ah, boh, pure con Mario alla fine, solo se dare già contro Sonic. Però, pure quando faccio con Mario, alla fine abbastanza veloce. Abbastanza, sì. Ok, ragazzi, questo è difficile. Il problema sono i cattoni. che non riesce a correre capi questo è difficile raga questo è difficile ma questo è difficile mamma mia raga questa è la nostra spina nel fianco non ci vuoi dire ma poi dai ci siamo riusciti con la pruginata perché non so ma non da manco il cazzo di tempo signorina chiamo di essere più figlio e garba la finezza è io una cosa che felicità via che stava sento? è stato bellissimo proviamo non è stato bellissimo ragazzi ho fatto un salto bellissimo oh perché no? ho fatto qui ah dobbiamo fare l'angolo di grado 50 giusto ragazzi dobbiamo arrivare a 50 ah devo fare un salto di meno 50 42 ho fatto due fall ma ragazzi è difficile mannaggia chi è che è bravo nel salto di personaggi bella domanda penso che qualcuno di abilità abilità? ma non mi dire che ne ho fatto meno di 15 wow a un pasqualino ragazzi però spero sono andato un po' meno ho capito pure come si fa peccato che è troppo tardi l'ho capito vado alla dove era arrivato io ho capito pure come si fa qui mannaggia lo fa un salto di 50 50 gradi 50 gradi ma vedi quello qua sotto il quale dei gradi vedi 46 60 38 38 ho fatto dobbiamo fare 50 minimo 50 fa nemmeno non è infatti scusate che non è ragazzo spazio legge a limona ho fatto 60 un angolo di santa almeno 15 metri con un altro esatto nel mezzo a me a tutti di 50 gradi e come fa è impossibile facciamo almeno le fa tutte e 350 gradi l'ultimo non può essere 38 all'estero tutto quanto almeno tutte e tre almeno di 50 capito esatto almeno 50 tutti e tre all'estero insomma una parola ragazzi e no cos'è un gioco in seconda e 28 un capone capito la parola e raga non è semplice stessi 43 e 41 un capone ma secondo me mi spettino un altro po no 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 si poi fa fallo fa fallo ma lui è arrivato a milano è bello che ti riparavi un vincito sicilio è proprio ma raga vennacci l'ultimo video vi faccio vedere poi saltiamo ma non riesco a fare votandovi no no vamos ma mai raga che missione di merda fai 400 metri ostacoli c'è anche lo schermo da sogno ma se quello toccano a me mi piace alla sorellina gemerina e ma non è un po' così raga 7 salti al momento giusto hai visto non sono chi che bello tina e che piatti verdi maria azzurri corega potremmo anche mettere lo schermo grado 4 ma si ragazza è meglio analisa shadow bocca non mi fa sette salti buoni 4 4 foto brava solo 4 brava brava sono due 1 1 non puoi sbagliare ci restano altri due però non puoi sbagliare ma è l'ultimo l'ultimo di ringarra l'ultimo di ringarra brava bravissima 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 la missione non era arrivata prima devi saltare bene là comunque l'ha fatto bene io degli altri ok dimmo pugilato scrive i 9 punti della pressione ma l'auto palle se poi è pugilato ma sembra è ma un pochino vagumare vado vado no vedi si vedi si che lo fate vuoi spruare i suoi colpi quattro oh che ma perchè ti salò nei denti? le siamo in un quarto vai ultimo No Vai ragazzi l'ultimo E ci sono riuscito dai Ottimo E le botte di capodanno ragazzi E le botte di capodanno Ma grazie davvero a tutti quanti Adesso andiamo a chiamare Ragazzi Che è successo in quel video di prima Davvero mi sono un po' esaltato Scusatemi ovviamente E ragazzi mi raccomando I video come sempre Usciranno il lunedì E il venerdì alle ore 18.30 Mi raccomando Non perdetevele perché guardate Quello che è successo l'altra volta può succedere di nuovo E ci divertiamo insieme ragazzi E poi qua in Mario e Sonic C'è la nostra gamerina che ci dà Ovviamente un contributo Contributo A diventare più bello Ovviamente più coinvolgente Il video Adesso aspetteremo ovviamente la sorellina Nimo Che dov'è la sorellina gamer? Che tocca a fare scherma Ragazzi che frattiamo di un bacino con la sorellina Stiamo sempre nel video Favamo mettere pausi Ma chi è da giù cazzo Ma chi è da giù cazzo Sonic con Conciughe che deve C'è va Eccoci qua ragazzi Ah non trasciato Oh Due fratelli Vediamo Deve buttalo tre volte fuori Vediamo se la nostra sorella Che mi piace No deve buttalo fuori da ringgastro Per il tuo camminasco No guarda la Sonic è più bella Vai Bravi Sono fuori uno Dobbiamo buttalo altre due volte Ehi Ehi Ah grazie Che bello sono Cammino 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 Vai Un'altra volta Ancora una volta Saliamoci Oh Ma qua come sono Ho scappato Ho scappato Oh ho scappato Ho scappato Ho scappato ragazzi In orange No 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 Come andando il test un ottimo la signorina la signorina sorellina c'è riuscito in modo abbastanza impeccabile dov'è un complimento la signorina che ovviamente ci lascia e adesso dobbiamo fare la finale nuova missione aggiunta da come siamo osservati la finale vediamo un po' sono curioso 400 metri sconfiggi mario quando ha al massimo della forma nooo devi sconfiggere il tuo maritone nooo 400 metri qui dobbiamo stare un po' attenti ragazzi ma mario quando ha al massimo della forma è ricordiamoci che dobbiamo stare attenti perchè qua c'è il cuore quindi non devi correre troppo esagerato no maritone questo è difficile ragazzi ragazzi non so se l'avete capito ma io amo mario mi piace molto attenzione si parte no mario è poco spezza no mario è poco spezza ma non so se l'abbiamo a tenerti nel giusto equilibrio la vera è salata è salata salviamo ragazzi provate Andiamo! Ma mare lo so! Allora dove va? Ah non lo sarebbe capito! Ho accorto tutto il cuore! 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 Ah poi faccio fare lo spin da mano! Per dimmi faccio del cuore! Eh! Sì! Passoni per resistenza! Ma la manca gli altri! Il mare è una resistenza! Penso il mare è una resistenza molto più grossi, queste passoni! Sì, sì! Alcuni, lo schizzi! No, ma sì! Sennò non ti facciano facile! Il mare è per resistenza, disolito! Vai! Vai con lo sprint! Annaccio lo sprint! Fammi di un mare! E ti succhi a fare! Eh ma lo sprint finale! Se tu non ti lo cuore, e te che come fa? Secondo me sa perché hanno fatto favo mare! Perché c'è una resistenza di Sonic! Ah, non tiEDO! Ah, ma non tiEDO! Ah, che sono mi piace! Ah sì! Ah! Ah, eh! Ah, che è proprio beck! Ah! marini auguro che lo scemo all'ultimo punto di vista la spazio non c'è perché ho capito il modello porto a noi